Corri! 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 Capitolo 11 Un nostro amico Pila scaletta 27 luglio 1951 Oh, raga, qua in questa casa o è il telefono O è la porta Di dormire non se ne parla proprio Apri mutande, sì, dai, tanto Ah, non posso aprire le mutande Vestiamoci Vestito costoso Sì Chi è? Ehi, Vito Eh, Harry È tanto che non ci si vede Già, un bel pezzo Che vuoi, Harry? Un drink Prendiamo la mia macchina Un drink alle sette di mattina? Eh, Harry, quindi tu, mi do io? Vediamo Ah, guido io comunque Cioè, la tua macchina guido io, va bene Beh, immagino saprai che Clemente è morto come tutti gli altri Senti, Vito, so che Falcone c'entra in qualche modo E ho paura che voglia eliminare anche quello che rimane della famiglia E perché dovrebbe interessarmi? Eh, sì Senti, sul fatto che te ne sei andato Mi dispiace per quello che ti ha fatto Clemente Ha avuto quello che si meritava, giusto? A me non me ne frega niente di quel vecchio bastardo In effetti posso tranquillamente lavorare per Falcone Mi stai dicendo che vuoi unirti a noi? Sì, e dato che lavori per lui ho pensato che forse Potevi mettere una buona parola per me Ci possiamo fidare? Gio e io garantiremo per te Ok, ci possiamo fidare Grazie, Vito Ti devo un favore Allora, come va la vita? Prima o dopo che la metà di quelli che conosco è morta Quella storia all'hotel Immagino che tu non ne sappia niente, vero? Non so di cosa stai parlando Strano Perché hanno ammazzato un amico di Gio nel parcheggio quel giorno Quindi immaginavo che c'entraste voi due Amico di Gio? Di chi parli? Sai, quella minchia di ragazzino che veniva sempre con Gio da freddi Come si chiamava, Michi, Mikey, come minchia si chiamava Vuoi dirimarti? Sì, sì, è lui Ha una voce uguale a quella minchiona di Minnie Sì, ne ho sentito parlare Quindi sei sicuro di non essere stato là quel giorno? Sei sicuro? Mettiamola così Gio e io ci stavamo occupando di una cosa per il nostro capo quel giorno È tutto quello che posso dire Sai cosa? Comunque sia non importa Ma fammi un favore, ti va? Sì, è sicuro La prossima volta usa qualcosa di meglio di quei baffi finti del cazzo Ti ho riconosciuto da un chilometro Senti, possiamo evitare di parlarne adesso Anzi, non parliamo in più Non preoccuparti, avete fatto quello che dovevate Inseguo a veicolo per eccesso di velocità No, ma dai, ma dai A dire la verità Aspetta, Harry, dobbiamo pagare la multa No, questo è ciò che sono Ed è ciò che so fare Già, suppongo che sia molto più riditizio Fai il fottuto autista Ecco Ti beccherai una multa per questo E te, paga Grazie D'accordo, tieni Fatti un favore rigadrifo, amico Vabbè, 50 dollari, che vuoi che siano Stavo pensando di lasciare la città dopo l'affare all'interno Per andare dove? E affare che? Ecco perché sono venuto da te Così ero la tua ultima spiaggia, eh? Grazie Ma tanto per sapere Come mai sei venuto da me e non da Joe? Beh, insomma Joe è un tipo apposto Ma non è esattamente la persona a cui affiderai il culo Mi capisci? Sì Beh Non posso certo darti torto Oh, guarda che il semaforo era rosso Sì, vabbè, Harry Comunque sto andando piano Non rompere le palle, pure tu Allora, siamo arrivati Comunque, Harry, evita di parlare di Marty davanti a Joe Perché non so come la prenderebbe Ehi, ciao, Vito Hai quei soldi per me? Tengo sempre la parola, eh? Ecco qui Non spendere tutti in una volta Grazie Dov'è Joe? Era qui prima, ma poi se n'è andato Pareva incazzato Ultimamente pare sempre incazzato È come dargli torto Senti, devo parlarti di una cosa Cosa? È importante Ho da fare con Vince al momento Vuole attaccarci Non sappiamo come o perché Devo pensare a questa cosa Beh, allora dovresti ascoltarmi Va bene, dimmi Ma fa in fretta Mi ha chiamato uno che lavorava per Clemente È preoccupato Non so se daremo la caccia al resto degli uomini di Clemente Beh, non è Per quanto ne so Il capo non è in mente nulla in questo momento A meno che non facciano qualche stonzata Ok, beh, il tipo mi ha chiesto anche se può lavorare per noi Sì, e che? Un amico tuo per caso Ho fatto qualche lavoro con lui per Clemente Ci sa fare Ok, digli di passare È già veramente Adesso Lui è già qui Davvero? Va bene Vallo a prendere Eh, di, lui è Henri Tomasino Henri È di Scarpa Piacere, signor Scarpa Non mai chiamare signor Scarpa Gli amici mi chiamano Eddie Eh, sì, è di, di Henry Allora Vito mi ha detto che vorresti unirti a noi Sì, sono senza lavoro E quello che è successo è acqua passata Bel modo di pensare Prima dimmi una cosa, Henri Clemente e Vinci progettavano qualcosa contro la nostra famiglia Ok De solito tengo il naso fuori da ste cose Ma una volta ero con Luca Gurino da Leo Galante E Luca continuava a dire che Falcone era coinvolto in certi affari sporchi E che si doveva fare qualcosa per sistemarlo Penso volesse mettere Vinci contro di voi Pezzo di cornuto Scommetto che parlava di gioca proprio mentre la spacciava lui Lo sa che Vinci è contrario a quella roba Probabilmente è riuscito a fregare il vecchio È per questo che vuole muoversi contro di noi Dobbiamo colpire per primi Ancora? Ehi, se non ci muoviamo noi lo ferà Frank Prima dobbiamo liberarci di Galante Senza di lui Frank è fottuto Volevo che ne restassi fuori Ma non ho nessun altro che possa fare un lavoro come questo Ma Leo Galante non è quello che ci ha fatto uscire di prigione? Secondo me questa può essere l'occasione perfetta Per mettere alla prova a Henri Che ne dici, Henri? Te la senti? Se il lavoro fatto sarò dei vostri Sicuro Esatto Occupati di Leo E tu che mi dici, Vito? Se vai con Henri per vedere che tutto fila liscio Mi fai un grosso favore Non è che devi ucciderlo tu Basta che vai lì Aspetti che finisca E poi torni Ma se non ti sembra giusto Posso sempre chiedere a qualcun'aucio Che ne dici? Mi spiace, Enti Non posso farlo Leo è stato come un padre per Mingale Ah, vedi, era lui Mi sa che te ne dovrai occupare da solo, Henri Puoi prendere qualcuno se vuoi Ma dobbiamo fare in modo che nessuno sospetti di noi Leo vive a Highbrook Capito, non preoccuparti Sarà fatto oggi Ok, meglio se ti muovi allora Ci vediamo, Eddie Hai fatto bene a portarlo qui Anche se fa tutto a puttane Non sospetteranno di noi Non credo che manderà tutto a puttane Meglio così Beh, Vito, non c'è altro per te oggi Ma fa un salto qui domani, ok? Sì Ci vediamo, Eddie Ciao Cioè, avverti Leo Ah, ok Quindi Facciamo da spia, però Oddio, non mi sembra tanto corretto nei confronti della famiglia È sempre un piacere Però Vabbè Ah, c'è pure il timer, cazzo La macchina La macchina Eccola Cioè, non è mia, però vabbè Fa niente Vai, vai Di corsa, di corsa Toglietevi Dovremo esserci quasi, eh Dai, che ci siamo Dai, che ci siamo Dov'è che devo girare? Qua Vabbè, vada più Dai Merda Merda Corri Vito Corri Vito Corri, 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 corri Leo! Leo, ci sei? Come minchia sei entrato? Fuori di qui o ti intiro il tarro su del culo? Sono io, Vito! Vito? E tu che minchia ci fai qui? Leo, non c'è tempo per parlare, devi andartene in fretta, vogliono farti fuori! Cosa? Viene di sopra, Vito? Ho freddo ai piedi, vuoi bere qualcosa? Se voglio da bere! Ma che cazzo hai nella testa? Allora, raccontami! Falcone è chi vuole morto, sta già arrivando qualcuno, devi andartene! E perché mi vuole morto? Sentite che Vinci sta pensando di attaccarlo perché Clemente ha mentito, ha detto che faceva affari con la droga. Mentito. Vito, Carlo Falcone fa affari con la droga, lo sanno tutti. Clemente ha cercato di prendersi la sua fetta e Falcone se n'è liberato. Ora vuole liberarsi anche di noi prima che ci muoviamo contro di lui. E tu come minchia lo sai? Ho le mie fonti. E tu perché sei qui? Perché? Ma te stai incoglionendo perché vogliono ucciderti, parla morti, Dio smettila di parlare i vestiti e andiamoci! Liberiamoci di quelli che Carlo ha mandato a uccidermi. Siamo in vantaggio, no? Non sanno che li stiamo aspettando. Non posso, lo conosco. In realtà sono quello che gli ha trovato in lavoro. Hai ingaggiato un tuo amico per ammazzarmi? No, non proprio. Senti, non ho tempo di spiegare. Sarà qui da un momento all'altro. Ok, aspetta qui. Mi vesto. Troppo tardi, sono qui. Oh merda, Harry non deve vedermi. Nascondiamoci prima che venga su. Vabbè, eh, nascondiamoci. Scappa con Leo, non farvi vedere da Harry. Vabbè, scappa. Di qua. Vito, e tu che minchia ce fai qui? Tranquillo, rimetti via la pistola e manda via i ragazzi. Ti spiegherò tutto. Ragazzi, aspettatemi fuori. Se non esco tra qualche minuto venite a cercarmi. Là dentro. Ora, non so se potevo evitare lo scontro... Sedetevi. ...oppure no. Ma che sta succedendo qui? Harry, Leo è un amico mio. In prigione, mi ha praticamente salvato la vita. E mi ha accolto in famiglia. Non sapevo che Eddie voleva mettere una taglia su di lui. Dovevo avvisarlo. Sì, ho capito, ma io non posso mandare tutto a puttane. Se lascio andare Leo, Falcone penserà che l'ho fatto apposta e mi farà uccidere. Adizione, Harry, sono tuo amico! Io per te lo farei, io lo sai! Questo non ha a che fare con l'amicizia, Vito. Sono affari e se faccio cazzate sono finito. Non posso lasciarlo andare. Ho accettato il lavoro e devo finirlo. Se non vuoi guardare, puoi andare via. E non preoccuparti, non dirò niente a nessuno. Ascolta, Leo mi ha detto che sta succedendo tutto perché Falcone vende droga. Sta violando le regole e vuole far fuori quelli che lo sanno. E allora? Gli unici che non infrangono quelle regole sono Frank Vinci e Leo, qui. E non sono loro quelli che mi pagano. Vito, grazie di tutto. Ma ora lasciaci. Ho avuto una vita lunga e bella. Non ha alcun senso rischiare il collo per regalare un vecchio qualche anno in più. No, Leo. Ci deve essere un altro modo. Vito. Vai. Mi dispiace, Vito. Non dirò a nessuno, cari qui. Quando esci cerca di non farti vedere. Grandissimo Leo, si sacrifica. Buon si sente lo sparo. Guarda che trema, mamma mia, ragazzi. Cioè, dai, è anche comprensibile. Cioè, se non fosse stato per Leo, Vito a quest'ora sarebbe stato ancora in prigione. Ah. Ehi, ragazzo. Leo. Ah. Vuoi da vedere? Chi è successo? Ho fatto un patto col tuo amico. Sparisco. Non c'è più niente per me in questa città da quando mia moglie è morta. E avevo comunque pensato di ritirarmi in un bel posto caldo. Ok. Bene. Per prima cosa usciamo di qui, prima che il tuo amico cambi idea. Porta Leo alla stazione di Dipton. Eh, sì. Madonna, però c'è una casa enorme. Come... Da dove... Da dove cazzo si esce? Ah, di qua, dalla finestra. Eh, prendo questa, Leo, se non ti dispiace. È molto più bella. Ok, Vito. Adesso, se non ti dispiace, portami alla stazione. Mi sono trovato bene in questa città. Ma è tempo di dirle addio. Ci vuoi andare in pigiama? Sì, cazzo. Meglio vivo in pigiama, che è morto in giacca e cravatta. Però, è vero, che cazzo. Vuoi dire, Frank, quello che è successo? Certo che sì, ma non preoccuparti. Non farò il tuo nome. Avrai già i tuoi bei guai per questa storia. Grazie, Leo. Sai, questa cosa se... è complicata... in fretta. È chiaro, Vito. Che ti aspetta? Fai un giuramento, metto un bel vestito, poi è tutta una bella festa. Carlo è sempre stato un losco bastardo. Anche per quelli con cui lavora. Ho detto per anni a Frank di starci attento. E adesso che farei? Sparisco e lascio che le cose vadano come devono. Salgo sul primo treno per lo Steven, faccio un paio di telefonate, e poi vado diretto in aeroporto per prendere un volo verso un posto caldo. Domani a quest'ora sarò su una spiaggia a sorseggiare uno di quei gink alla frutta con dentro l'ombrellino. Una cosa è certa. Se Carlo mi vuole morto, restare qui è come comprasse un biglietto per l'obbitorio. Bene, eccoci qui. Grazie di tutto, Vito. Ma promettimi che non farai più il coglione come hai fatto oggi. Hai rischiato la pelle solo per concedere qualche anno di vita in più a un povero vecchio. Goditi la vacanza, vecchio. Ok. Vabbè, Leo, sei molto fashion con l'accappatoio là, eh? E poi io di casa non posso aprire la porta in utanda, vabbè. Allora, vai a casa. Ed eccoci arrivati a casa. Signora, che fa sulla gradine di casa? Che ci fai? Ah, è mia sorella. Non so cosa fare, non posso tornare a casa. Non voglio vederlo mai più. Oh, che è successo? Vedere chi? Eric. Tuo marito, perché? Beve ed è sempre in giro a divertirsi. Non è che ti picchia? No, ma si vede con qualcuno, sono sicuro. Ma lui ti picchia. Rispondi. Ogni tanto. Io lo ammazzo. No, ti prego, non fargli male. Ho pensato che potevi parlarci. A te ti ascolterà. Dov'è? Non lo so. Ha un amico che vive a River Street. Di solito è lì che fa... Ok, andrà tutto bene. Allora, senti, ehi, quando stai un po' meglio, torna a casa. Parlerò con Eric. Se quel bastardo non torna a scusarsi, chiamami, ma non preoccuparti. Ok, Vito, ma non fargli male, ti prego. Non si preoccupare, le farò ragionare, ok? Allora, ragazzi, questa è proprio una cosa personale. Cioè, picchiare nostra sorella. Quindi andiamo direttamente a fare due chiacchiere con il nostro cugnato. Magari li spezziamoci su qualche osso. E gli insegniamo che il matrimonio è un'accusa santa. Ok, eccoci arrivati. Ah, ecco qua. Ah, è una festa privata, quindi. Un condominio. Io immagino sia qui dentro. Allora, ecco qua. Consideralo un avvertimento. Tocca ancora mia sorella e io t'ammazzo. Ma Ben, d'ora in poi, te ne stai a casa, non ti droghi più, la smechi di bere. E fai in modo che lei sia tanto, tanto felice. E se solo vengo a sapere che non lo è, cazzo ti trovo e finisco il lavoro. Mi hai capito? Sì. Ok, gente, la festa è finita. E non ci saranno più feste con questo stronzo, mai più. A meno che non vogliate che torni e faccia lo stesso a voi, capito? Che meraviglia, ragazzi, il nostro Vito. Minaccioso al punto giusto. Allora, torniamo a casa. E ci salutiamo. Ovviamente abbiamo ciutato la macchina, come al solito. Vabbè, dai, ci rivediamo a casa. Ok, casa, dolce casa. Il telefono che squilla in continuazione. Vito, sono Francesca. Oh, Francesca. È tornato conciato male. Hai promesso che non gli facevi niente. Avrà fatto a botte. Girava con gente davvero brutta. Ha chiesto scusa per tutto, Vito. Ha promesso che sarà buono con me. Adesso fa tutto bene. Lo lascerai stare, non è vero? Ehi, tutto quello che vuoi, ma se ti fa del male ancora, lo ammazzo. Ma ti senti, Vito? Io non ti riconosco più. Per favore, stammi lontano. Hai capito? Stammi lontano e basta! Ecco, cornuto e mazziato. Va bene, ragazzi. Sulle note, sulle parole tristi della nostra sorella, esso con una pioggia fuori che continua a piovere in modo imperterrito, io direi di solitarci qui per questo video. Mi raccomando, spolliciate, commentate, mettete like. E noi ci vediamo in un prossimo episodio. Un saluto da Mizzaragaret. Ciao, valeu!